L'Italia è il primo paese europeo a poter sostituire i motori a benzina o a gasolio di vecchie auto con motori elettrici. Pronti i kit di installazione, il tour che tocca tutte le regioni per farli conoscere è passato anche in Piemonte. Con queste auto elettriche è passato per Monbello e per Venaria il tour italiano che percorre 2400 km a emissioni zero. Auto, come vedete, che hanno mantenuto la vecchia scocca e il cui motore tradizionale è stato sostituito con uno elettrico, un cablaggio e le batterie. Sono lidio ferrofosfato, quindi sono delle batterie che non hanno effetto memoria, vengono garantiti dal produttore per oltre 3000 cicli. Le city car si possono ricaricare con 3 kilowatt di casa in 5 ore o con le colonnine in meno di 2 ore. Il risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti sono i benefici di tutte le auto elettriche, in più queste hanno il prezzo. Si riqualifica l'auto con meno di 10.000 euro compresi, i 4000 di batterie se le si vuole comprare, diversamente le si può affittare a 90 euro al mese. Il bollo non si paga per i primi 5 anni, dal sesto in poi si paga soltanto il 25% dell'importo originario. Per quanto riguarda il consumo di carburante, queste macchine fanno 100 km con poco meno di 2 euro. La rete d'impresa che promuove l'iniziativa ora per trasformare la vecchia auto in auto ad emissioni zero, cerca autoriparatori multiservizi. Per iniziare a fare le prime trasformazioni in sicurezza. Per iniziare a fare le prime trasformazioni in sicurezza.